Ehi la ciurva, io sono Vazze Tess e ben ritrovati in questo nuovo video di Expeditions Conquistador. Due cose sono successe, allora punto primo, no tre cose, punto primo dovrei aver risolto il problema dell'errore che dava con i log eccetera eccetera, era il mio antivirus che andava a mettere dei guai per il salvataggio dell'immagine del salvataggio, per cui dovrebbe essere a posto, adesso speriamo che non appaia più, seconda cosa dovrei aver risolto il problema del scatto di frame, non so neanche se era percepibile nei video, ma teoricamente adesso OBS dovrebbe registrare meglio, terza cosa ho alluttato tutta l'area, perché non mi fa vedere più niente, io ho alluttato tutto e probabilmente dovrei esplorare, ma vi prometto che ho alluttato tutto, comunque quando ho alluttato ho trovato questo tizio qua sotto che stava spaccando la legna ed era uno dei servi del nostro nemico che abbiamo ucciso, per cui c'erano due opzioni, dirgli sei un uomo libero oppure dirgli adesso servi me, e ci ha detto, ottimo, una volta ero fuori legge, ho seppellito il mio tesoro da una parte giù più sotto, se andate a recuperarlo portatemi un, una sorta di zampa di orso ho detto, se non ricordo male, e niente, il resto potete tenervelo, dovrei muovercela qua, si, a bear claw trinket, ok, tipo un soprammobile a forma di, di zampa di orso, e tutto il resto l'abbiamo luttato, ti ho dato curiosità, dov'è che è quel area map, ok, ma se io volessi vedere il tizio, potrei anche spostarlo su disco ssd, perché velocizzano un po' questi caricamenti, tre giorni dopo, eh, vabbè ok, sia qua, ok c'è del panico, problemi, siamo sotto attacco, ci sono dei briganti dal mare, stavamo dormendo, prendi le tue armature le tue armature, ok, no, eh niente, ancora l'ora di copiarlo dei file, non l'ho risolto allora, internal folder not found, boh, devo provare ad aggiungere le eccezioni, probabilmente anche il percorso in cui ho installato il gioco, probabilmente, anzi facciamo che metto in pause e lo faccio subito, così meno ci togliamo il problema e il dubbio, sì, ok, dovrei l'ho fatto, allora, intanto, cos'è che, ci sono dei tizi del nord, sono venuti con navi e ci stanno attaccando da nord a sud, eh, perché ora ci sono stati gli avvisi al riguardo, in che senso, ah no, non li hanno accesi, vabbè, eh, dobbiamo cercare gli altri o dobbiamo spedire questi via, andiamo a cercare gli altri, niente, continuo a dare errore, ma porca miseria, oh, niente, afast ultimamente mi sta dando davvero un sacco di guai, dove sono gli altri più che altro, c'è qualche idea, cioè se vado di qua, se non ricordo male, troviamo l'evento in cui è, allora, sono tantissimi, dobbiamo assicurarci che nessuno raggiunga l'area evidenziata, che è questa qua giallina, immagino, allora, io mi anderei davanti, ah, non abbiamo nessuno scudato, dai, allora, vado avanti io, muovo questo, così dovranno passarci sopra, se non altro, no, c'è per ora, lo mettiamo qua, non hai copertura da questo, scusami, c'è dei tronchi, no, lui qua sta al coperto, per cui direi che per ora siete tranquilli, fino a un certo punto, sono tantissimi, dovevo stringerli sul ponte in modo che, non ci credo di guai, baciano anche loro gli arcieri, porca miseria, demoralizzo, eh, oh, sarà tostarello questo, mi pare che, eh, ai tempi della beta era tostarello questo affare da passare, allora, se vado là, gli vado in braccio, praticamente, non abbiamo neanche abbastanza movimenti per, ah, però al momento siamo, ci sono solo io là davanti blocco, allora, io starei qua, tu vai qua, e tu mettiti qua dietro, non c'è qualche cosa tipo di super difesa, come era nel, in passato, feed, extend, no, tactical, reckless strike, probabilmente è inautomatico, se uno attacchi è una maggiore difesa, può darsi, riesci a vedere qualcosa? 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, oh, ci proviamo, è un nulla, ho messo proprio a questa per la far nulla, ah, no, sapete cosa potrei fare, potrei fare il, cosa che li illumina, tipo, com'è che, eh, interrupt, no, spotted, e hanno più 25% di accuracy, ok, per cui direi che, spariamo qua un, dove lo sparo, qua, verso gli arcieri, o poi si spostano, vabbè, spariamolo qua, vediamo un po' come funziona, e posso anche attaccarli, sì, ok, è sempre il 5%, però, vabbè, va bene, va bene, ma scusa, tu puoi fare lo spotted anche tu? Sì, mettiamolo qua, allora, ci torna utile per dopo? Che giro fa? Ma è scemo? Ancora questo demoralize, basta? Ah, che lui fa lo spotted, eh, cavolo Kaiser Sarà molto tosto Vadi Tu non ci arrivi, lover? No, devo muovere lui, aspetta, muoviamo lui qua Hai volto? C'è volto? Puoi tornare indietro, tornare indietro Ah no, c'è Interrupting, cavolo Ah Cavolo, cavolo, che errore che ho fatto Questo non posso più usarlo, però posso sfruttare questi Ma non si vede niente uguale, che cavolo Questo? Questa la vedo meglio? No Questo? È sempre il 5%, proviamo ad andare su di lui Niente Nulla Mi sa che ci moriamo malissimo qua Uno è già morto, praticamente Uff, che pelo Basta con sti arcieri Porca d'una miseria ladra Allora Nefia, vai su questo Ottimo, critico Buonissimo Tu riesci a tirare giù Questo Lei ti dà l'attacco di opportunità? No, non credo Ok Ok, allora Arcieri Mi sa che è meglio che ci muoviamo un po' che tiro più Il range Tipo Se mi mettessi qua Ho il 50% Ci proviamo Ok, andata Molto bene Molto bene Riesci a retrocedere a un minimo? Retrocedi a un minimo Tu vai qua E che devi fare il giro dell'oca lui Mannaggia lui Perché non lo puoi prendere? Cover No, questo è 28% Perché c'è il coso che va sott'acqua? Cover Questo 54% Riesci a 28% Vai Ah ma No Ah, la linea è bloccata Ah no, la linea è bloccata Ma perché? Perché è troppo in basso? Ah no, ha giocato tutto il movimento per quello Ok Sono stupito io, scusate Cavolo Abbiamo perso praticamente lui No, 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 no Uff Quanti ne restano? Troppi Allora tu Allora non volevo Ok Tu Melinda qua Come ti chiami? Allora aspetta Allora ho bisogno di muovermi con lui Qua Bravo Riesce, quanto ha di margine? 52, ci proviamo No Ah, tu intanto togliti dallo spotted per piacere Poi se ti pigliano è un altro discorso Ma intanto Non siamo in mezzo Ecco si, ah, 35, 41 Proviamo sul 41 allora Aspetta, muovi qua 47 meglio Eh, porca pupazzola No, fa il ranging shot Ah, no, ok, su noi No, sul tizio dietro, per fortuna Però ci piglierevo un sacco di botte così Ah, infatti Ah, lui ha usato i drop Quindi se mi muovo E dentro del suo capo Vi piglio dei danni Lo farò lo stesso Che ci vuoi fare? Ok Ok Hai modo? No, cover, cover 16% Se vado qua Solo sia spotted Che Mi piglio l'attacco Mi piglio l'attacco Andiamo No, non ho preso l'attacco Perché ho usato l'interrupt Allora Niente Porca miseria Allora Tu riesci a Ovviamente no 5% 5% Vedi qua E vediamo se 11 Meglio di niente Nulla Resta là Magari loro vogliono provare A colpire te Dubito Neffia per piacere Neffia Ok Vai là per piacere Ok, interrupto Non importa Cioè Si, importa Ma fino ad un certo punto Allora così Gli togo la cover E Riesco a fare Un buon danno 66% Ah, muoviamo qua 58 O Settada Vai su Settada Ottimo Anche se hai resistito All'arried Tu Quanto hai 41% Così buono Proviamo Ottimo 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 Neffia Io ti metteremo Un attimo Defilata Se possibile Tipo qua dietro Ah Illuminata Porca miseria Me la tirano Me la tirano giù Me la tirano giù No Ok Ha tirato la rociere Vai così Ci piace E tu E tu E tu neffia Vai Qua E poi pizzicalo Ottimo Mentre invece Tu Allora 40% No Allora andiamo qua Sollo Illuminato Va bene Ma Niente Tu corri fortissimo Per piacere Non è detto Che tu Mi servirai Ma è meglio Che Tu sia Portativato Tu puoi muoverti Ancora Neffia Stai qua dietro Allora Dai Ce l'abbiamo fatta Comunque Penso Spero Allora Io Vado Lados Allora Andiamo qua Provo a sparargli Una bella frecciona Nel faccione Ottimo Ottimo L'abbiamo visto Un attimo Brutto Per Il tizio Ascia E Neffia Ma Andata bene Sono ben soddisfatto Ha perso Un po' di Durabilità La sua Ascia Ok Dovevo poi Eventualmente Riparare L'ultimo Norvegesia Nel fango Ottimo Un attimo Di Pausa Sono Fortunato Che C'è solo Contente Che sei arrivato Così In presto Perché Sapevano Assolutamente Come combattere Allora Liotto Le dice Ah Sei ancora Vivo Si Gli altri Stanno ancora Gestendo L'attacco Al Cancello Nord Se ti muovi In fretta Possiamo Anche Sconfiggere Da quel Lato Ok Allora Aspetta Riusciamo Facciamo che Saccheggiare I tizi Vediamo Che Almeno Vediamo Se Aspetta Grazie a tutti.